Josie, benvenuta prima di tutto. Le tue prime impressioni? Sì, grazie. È molto positiva. Venho motivata per lavorare in Italia. Dopo tanti anni, questa opportunità di arrivare a Bitonto e giocare con compagni, con i quali ho già giocato nel Brasile, e conoscere un po' più del futsal italiano. Allora, ringrazio per la reception. Ha detto che è molto motivata. Non vedi l'ora di iniziare a lavorare, soprattutto con noi, che abbiamo già giocato insieme, conoscere le italiane e soprattutto il tifo del Bitonto. Senti, come mai hai deciso di venire a giocare qui a Bitonto? Che cosa ti ha fatto decidere di venire qui a giocare con noi? Il progetto del Bitonto, che è un progetto nuovo, ma è un progetto forte. Il fatto di conoscere le ragazze e di sapere che le persone qui sono appaixonate e il lavoro è serio, sono due cose importanti per ottenere questa decisione. Il progetto del Bitonto, che è un progetto nuovo, ma è anche vincente. Conoscere noi, le brasiliane, soprattutto anche per lei, cambiare un po' dopo tanto tempo. È una nuova sfida. Qual è l'apporto che darei alla squadra? Come aiuterai la squadra? Sei che è difficile fare il lavoro della Bianca, specialmente il lavoro che lei ha fatto con i piedi, ma credo che posso apportare sicurezza e che le ragazze siano tranquilli. Defendere come ho defenduto il gol del Burella e mi esforzare un pochino per lavorare e magari collaborare un po' con questo gioco di pesca che la Bianca faceva così bene. Ha detto che sarà difficile sostituire Bianca, soprattutto per il gioco con i piedi, ma che cercherà di dare tanta sicurezza alla squadra e imparerà a giocare con i piedi a lungo. Giosi, grazie e buonanotte. Obrigada, buonanotte.